...di prodotti di non qualità, che è una messa nelle condizioni di chi vuole fare appunto del... ...diciamo, c'è un decreto di lavoro, è tutta tutta creativa, ma chi di troppo ha degli interessi... ...che sono sempre quei... ...diciamo, ci diamiamo un pochettino... ...per quanto... ...in particolare, naturalmente questo dovere ricepirle, ma questo non... ...sare che è un rapporto tra scienza e politica che a mio parere sia un po' deteriorato sicuramente in Italia, ma non lo so... ...diciamo appena il conto su questo tema... ...su questo... Grazie a tutti e... Bene, auguriamo buona vita e buona vita, è grande, diciamo, approvazione... Vado? Sì, sì... Grazie. 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 Grazie.